Si arricchisce di un'altra importante vittoria la pluriannale battaglia col diretti per l'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, a tutela sia della salute dei consumatori che della produzione sul mercato dei prodotti agricoli made in Italy. Da mercoledì 19 aprile, infatti, l'etichetta di tutte le confezioni di latte, prodotti lattieri o caseari devono indicare il nome del paese in cui è stato munto il latte e quello in cui è stato condizionato o trasformato. È vero che parte in maniera sperimentale, ma è anche vero che questa è una grandissima battaglia avvenita da parte della Coldiretti perché in questo modo qua riusciamo a dare al consumatore la possibilità di fare delle scelte consapevoli, cose che prima non avevo. Ed è proprio la vigilia di questa importante data che si è svolta presso la Camera di Commercio e il workshop organizzato da Coldiretti Arezzo sul tema tutta questione di etichetta, tracciabilità, trasparenza e sicurezza alimentare per il vero made in Italy. L'importanza è ribadire una serie di concetti fondamentali non solo per l'agricoltore ma per il consumatore, cioè che chi produce vuole vedere riconosciuto il sacrificio, il frutto del proprio lavoro e chi consuma ha giustamente il sacro santo diritto di sapere cosa mangia perché non è pensabile che ci siano ancora prodotti dove non solo non c'è l'indicazione d'origine ma anche dove si trova con grandi difficoltà nel retro. Quindi vogliamo più trasparenza, la vogliamo per il consumatore ma anche per il prodotto distintivo e di origine e di qualità che ovviamente si produce in questi territori. Se non puntiamo sulla distintività la nostra agricoltura è morta, non ha futuro. Con l'omologazione, i costi di produzione, la provenienza di prodotti dove c'è anche sfruttamento di lavoro nero si rischia di non dare il giusto valore a ciò che mangiamo e soprattutto alla salute dei nostri concittadini.